Quasi 3.000 anni fa, commentando la prima grande guerra che la storia dell'Occidente conosca, cioè la guerra di Troia, Omero scriveva, polemos cacos, la guerra è un male. La guerra è un male. È difficile immaginare che qualcuno di noi possa non condividere questa secca sentenza di Omero. È difficile pensare che qualcuno possa ritenere che la guerra non sia un male. Ma il problema non è il giudizio, perché quello possiamo pensare che sia largamente condiviso. Il problema è come rappresentare questo male che è la guerra, soprattutto come descriverlo, evitando di glorificarlo indirettamente e preterintenzionalmente. Come è possibile, cioè, parlare della guerra, evitando l'enfasi, cercando di accantonare la retorica, impedendo in qualche misura che il giudizio finisca per essere un giudizio positivo. Se ci pensate, questo paradosso è già presente in Omero, che per dire che la guerra è un male, scrive un poema immortale, che viene poi ripreso costantemente nella successiva tradizione culturale dell'Occidente. E badate, non è solo una possibile contraddizione che riguardi questo poema così significativo, perché se ricostruiamo con la memoria i grandi monumenti della letteratura e della lirica occidentale, ci troviamo in presenza di paradossi analoghi. Pensate alla Gerusalemme liberata, all'Orlando furioso, alla Chanson des gestes, alla saga dei Nibelunghi. Pensate alle legende nordiche che vedono come protagonisti quei grandi guerrieri che erano i vichinghi. Insomma, un po' dappertutto, nelle diverse componenti della cultura occidentale, affiora questo problema. Rappresentare la guerra senza indirettamente cancellare il carattere malvagio della guerra, il suo essere un male. E questo problema, come era probabilmente inevitabile, si ripresenta con le opere cinematografiche. Se noi scorriamo rapidamente l'elenco dei grandi film che hanno riguardato episodi bellici, ci troviamo quasi sempre in presenza di film che distinguono nettamente i buoni dai cattivi, che fanno emergere personaggi eroici, che insistono sul tasto della retorica, del patriottismo, della esaltazione di grandi valori guerreschi. In particolare il cinema di Hollywood non è riuscito a sfuggire a questa contraddizione. E la mia opinione personale è, ad esempio, che perfino il film, che è considerato un vero e proprio esempio di opera antimilitarista, qual è Salvato il soldato Ryan di Spielberg, non sfugge in realtà a questo paradosso. E in maniera particolare la conclusione è una conclusione enfatica, patriottica, che è quasi più un appello alla guerra piuttosto che un'esortazione alla pace. Allora possiamo capire che essendo questo il contesto di carattere letterario e poetico e di carattere specificamente filosofico, quando Mario Monicelli nel 1959 si accinge a girare il film intitolato La Grande Guerra si trova alle prese col problema di raccontare quella guerra senza farsi catturare dalla retorica patriottarda così dominante in opere precedenti. E il compito di Monicelli è tanto più difficile, arduo e impervio perché ciò di cui egli deve parlare non è semplicemente una guerra, ma è un vero e proprio massacro. Pensate, la Prima Guerra Mondiale annovera 16 milioni di morti, 20 milioni di feriti e mutilati. E per la prima volta nella storia il numero delle vittime civili è pari al numero delle vittime militari, secondo una tendenza che poi farà sì che nella Seconda Guerra Mondiale il rapporto si ribalti, siano maggiori e più numerose le vittime civili, fino alla Seconda Guerra del Golfo, dove il rapporto è 1 a 10, un militare 10 civili. E allora, quando Monicelli appunto deve affrontare questo problema, come tenta di uscire da questo possibile paradosso? Ecco, esce con una strategia in due mosse. La prima mossa, forse la più significativa, è raccontare la Prima Guerra Mondiale dal basso, non dall'alto. raccontarla dalla prospettiva di due umili fanti opportunisti, vigliacchi, che tentano in ogni modo di sottrarsi al pericolo, raccontare la guerra non attraverso le gesta di generali con le divise ben stirate e i capelli con la brillantina, come nei film hollywoodiani, ma raccontare una guerra nel fango, nella lordura, nelle tecnologie antiquate, nelle morti atroci dei fantaccini che sono morti al fronte italiano. E la seconda mossa, con la quale introduciamo il filmato, è scegliere due maschere comiche, scelte tra l'altro non casualmente, perché la prima di queste, Vittorio Gassman, aveva appena girato quel film straordinario che è I soliti ignoti, facendo ridere tutta Italia con la macchietta del personaggio che detesta il lavoro, e l'altra maschera comica è lo straordinario virtuosistico Alberto Sordi, già noto per moltissime commedie all'italiana. Sono questi due umili fanti, questi comprimari, questo personaggio che si chiama Busacca e quest'altro personaggio che si chiama Giacovacci, uno milanese e l'altro romano, che ci consentono di capire quell'autentico massacro che è stata la prima guerra mondiale. Là dove non arriva la descrizione enfatica dei film hollywoodiani riesce la battuta pronta di queste due straordinarie macchine comiche che ora vediamo in azione. Sembra semplicemente una scena di irresistibile comicità nella quale emergono poi questi due tipi, il romano e il milanese, il gioco delle parti, le maschere. In realtà, come accade anche in numerose altre scene di questo autentico capolavoro di Monicelli, che nel 1959 ottiene tra l'altro il leone d'oro ex equo al Festival del Cinema di Venezia, in realtà anche questa scena è un modo per far passare un ragionamento sul tema della guerra che ha una dignità di carattere concettuale certamente non inferiore alle molte riflessioni filosofiche sulla guerra. Sentiamo quel personaggio, quel simpatico istrione, quel cialtrone irresistibile che è Busacca Giovanni, e cioè Gassman, che enuncia un suo ideale di fratellanza universale che gli impedisce di fare la guerra. E altrove lo stesso Busacca Giovanni dice la mia guerra è contro i pescecani imboscati che ci mandano a morire in trincea. E con questo viene da Monicelli affrontato uno dei grandi temi che sono alla base della Prima Guerra Mondiale, vista cioè non come guerra di eserciti e contrapposizioni di stati, ma come una distinzione di classi sociali dove i più umili, i più deboli, i più poveri, i diseredati sono mandati a morire per fare gli interessi dei pochi che se ne stanno appunto come pescecani a attendere il risultato della guerra. Insomma, è questa tra le molte una delle testimonianze più incisive e più convincenti di come attraverso il riso si possano far passare discorsi molto importanti. Nel 1997 Roberto Benigni si accinge ad un'impresa particolarmente impegnativa e ambiziosa. Firma la sceneggiatura, il soggetto, la regia e compare come protagonista di un film che è intitolato La vita è bella che probabilmente molti di voi avranno visto e forse anche più di una volta, un film destinato a riscuotere uno straordinario successo a livello internazionale, è il film che ha incassato più di qualunque altra opera cinematografica in Italia, avendo incassato 230 milioni di dollari, un film che viene ad acquisire sette nominations per gli Oscar e che poi ottiene tre statuette, una come migliore film straniero, una per la migliore interpretazione e una per la straordinaria colonna sonora di Nicola Piovani. Nel film, per dirla in breve a coloro che per caso non l'avessero visto, protagonista è un giovane ebreo toscano che incontra e sposa una giovane donna, Dora, dalla quale ha un figlio che viene chiamato Giosuè. La vicenda si svolge tra il 1939 e il 1945. Come vedremo, vi sono alcuni episodi di cui sono protagonisti in maniera particolare Giosuè, il figlio, e Guido, il padre, ma fin d'ora si può sottolineare un aspetto, e cioè il film è costellato di episodi di straordinaria, direi, irresistibile comicità. Ma non è mai una comicità fine a se stessa, è sempre rivelativa. Prima di vedere una clip che ne rappresenta una testimonianza particolarmente persuasiva, accenno semplicemente a due episodi che ugualmente meriterebbero molta attenzione. Come quando il piccolo Giosuè chiede al padre Guido perché in quel locale pubblico era affisso un cartello che diceva vietato l'ingresso agli ebrei e ai cani. E per non creare turbamento nel piccolo Giosuè Guido risponde che ciascuno fa come gli pare che per esempio un po' più avanti c'è un ferramenta che ha messo fuori il cartello vietato l'ingresso agli spagnoli e ai cavalli. E un po' più avanti c'è il farmacista che non può soffrire i canguri e ha messo un cartello vietato l'ingresso ai canguri. Sembrano battute di grande lepidezza e nient'altro ma in realtà smascherano l'irrazionalità profonda di qualunque atteggiamento di discriminazione di carattere razziale. Come l'episodio che viene quasi immediatamente dopo quando Benigni si spaccia per essere un ispettore venuto da Roma che deve spiegare alle scolaresche riunite di una scuola elementare la superiorità della razza ariana. E allora Benigni insiste nel dire guardate la perfezione del mio padiglione auricolare e poi si scopre mostrando l'ombelico e dice vedete questo è un ombelico ariano perfetto. Ecco molto più di tanti discorsi antirazzisti questa così violenta esplicita messa alla berlina della profonda insensatezza di ogni forma di razzismo è uno dei grandi punti di forza di questo film. Ma credo che questo film meriti almeno in parte di entrare nelle antologie della storia del cinema internazionale in maniera particolare per una scena che ora vedremo è anche di durata molto limitata e che poi brevissimamente commenteremo. Avrete certamente capito Guido e Giosuè sono internati in un lager arriva il capo e dà le regole inflessibili di organizzazione del lager regole severissime che prevedono punizioni per coloro che dovessero trasgredirle per evitare al piccolo Giosuè il trauma di assistere a tutta questa violenza e allora Guido si inventa questo stratagemma della traduzione non conoscendo una parola di tedesco e quindi traducendo ciò che viene detto dal capo del capo di concentramento traducendolo come se si trattasse di regole di un gioco il cui vincitore potrà poi godere di un carri armato vero è io credo una delle sequenze che meritano di appartenere all'antologia della grande storia del cinema ma è anche non solo un momento di straordinaria ilarità di umorismo perché se ci pensate è costruita su un presupposto che non è affatto umoristico è estremamente serio lo richiamava anche prima molto bene Lucrezia Ercoli cioè quello che potremmo chiamare l'isomorfismo tra guerra e gioco e cioè guerra e gioco sono in una certa misura attività che hanno la stessa forma sono attività razionali non irrazionali razionali che si svolgono conformemente ad alcune regole per il conseguimento di taluni obiettivi certo hanno in qualche modo una grammatica comune anche se vi sono rilevanti differenze ma questa apparentemente innocua sequenza di Benigni ci fa capire che allora non vi è poi una distanza abissale tra guerra e gioco tra il mondo nel quale vive il piccolo Giosuè che pensa di partecipare a un gioco collettivo e quello degli adulti che invece si trovano in una situazione di grande sofferenza in fondo non c'è un divario così radicale Benigni sembra dirci basterebbe poco per tradurre la guerra in gioco per toglierle quel potenziale di violenza distruttiva e ridurla a essere invece una competizione nella quale il prevalere non vuol dire la cancellazione del nemico insomma la riflessione di Benigni io credo merita di essere considerata una delle riflessioni più significative e più ricche per quanto riguarda lo statuto stesso della guerra grazie a tutti Grazie a tutti.